Elena Bonetti, Ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità. Il tema delle donne in questo momento è molto sentito, soprattutto sul versante della violenza. Ci sono notizie che sono calate in maniera drastica, le denunce. Quindi, diciamo, in questo momento in cui si è costretti a stare a casa, il suo di Castero interviene in che modo per segnalare che si è vicini alle donne? Innanzitutto, da subito ci siamo mossi nella direzione di garantire il servizio rivolto alle donne vittime di violenza e quindi, grazie alla grande generosità, al lavoro straordinario che fa la rete dei centri di violenza delle case rifugio a livello territoriale, abbiamo potuto garantire alle donne di avere comunque una comunità a cui rivolgersi e a cui chiedere aiuto. C'è stato da subito una campagna informativa che ha detto alle donne che non sono sole, anche in questo momento in cui abbiamo detto di rimanere in casa, abbiamo da subito affermato che la porta per uscire dalla violenza la si può sempre aprire e che c'è una comunità, c'è un paese, c'è uno Stato al quale rivolgersi. Quindi, diffusione del numero 1522, alternativamente dell'app, perché in questo momento di reclusione in casa l'utilizzo di un'app può essere più semplice per una donna, e un lavoro anche in sinergia con il Ministero dell'Interno in particolare con la Polizia di Stato, di incentivo ad un'altra app, Youpol, che parla direttamente alle questure che può essere utilizzata adesso anche per la denuncia, in particolare, delle violenze domestiche. Accanto a questo, ovviamente, c'è un tema di sostegno fattivo alla rete dei centri di antiviolenza, quindi abbiamo sbloccato in via straordinaria anche l'erogazione, al di là delle procedure amministrative e burocratiche che erano richieste per i fondi 2019 alle Regioni, 30 milioni di Euro, che ho chiesto con una lettera al Presidente della Conferenza delle Regioni, vengano erogati il prima possibile a sostegno dell'attività che effettivamente i centri svolgono. Sempre nell'ambito dell'informazione, invece, ricordo un accordo recente del 1 aprile con l'Ordine dei farmacisti Federfarma e Assofarma, che favorisce una diffusione dell'informazione sul numero 1522 anche attraverso le farmacie. Importantissimo anche l'iniziativa fatta sempre con la Ministra Lamorgese, che ha interessato le prefetture per reperire in modo straordinario alloggi per le donne che devono essere allontanate da casa per la loro sicurezza o la sicurezza dei loro figli e che necessitano di un isolamento per le questioni sanitarie di cui siamo tutti oggetti per la gestione dell'epidemia. Ecco, in questo caso abbiamo anche stanziato ulteriori risorse a livello del Ministero e grazie alla Commissione Femminicidio che si è fatta, contro il femminicidio, scusi, del Senato che si è fatta carico di queste problematiche in modo molto puntuale, con un voto trasversale tra tutte le forze politiche, auspico che anche col Parlamento questo fondo possa essere incrementato ulteriormente. è importante una sinergia ampia su questi temi, quindi da un lato la sensibilizzazione alla chiamata, il 15-22, dall'altro però il sostegno effettivo alla rete che si prende poi carico dell'accoglienza delle vittime.